È salito sul gradino più alto d'Europa Renato Favero e con lui ha portato la sua Mussolente. Classe 2005, Renato, insieme alla sua squadra, è campione europeo juniores di ciclismo su pista, nella specialità dell'inseguimento a squadre. Ed è con grandissimo orgoglio che il sindaco di Mussolente, Cristiano Montagnier, a nome della Giunta e di tutta l'amministrazione comunale, ringrazia il giovane ciclista che insieme ai suoi compagni Alessio, Luca, Andrea e Dario, pedalata dopo pedalata, ha portato in città, da lontano Portogallo, un oro europeo, orgoglio per tutta la cittadinanza.